musica 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 ragazzi stasera vado di youtube youtube bellissima questa canzone bellissima particularly musica musica Ginger Jeff musica 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 I can feel, I can feel, eh, non lo ricordo a memoria il testo, però è bellissima, ragazzi, bellissima. Ve l'avevo già detto, io non amo il Cure, però ci sono 4-5 tracce che sono fantastiche, fantastiche. 5 euro. Bellissima. 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 questo che vi mando è un video bonus perché mi sento meglio è ancora presto, è ancora prima di mezzanotte allora prima di mezzanotte vi mando questo video musicale e mi invito a mezzanotte 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 negli anni 80 90 per non dire i 70 con la schifezza che ti propongono adesso alla radio dai non mi sento allora è oggettivo è oggettivo è oggettivo è oggettivo c'è un cazzo da fare è oggettivo questo è qualcosa di sì dopo 30 dopo 40 anni l'ascolti e dici che bella che è ma io non sono amici miei io non sono vissuto con sta roba l'ho scoperta dopo però l'ascolto e dico è che cazzo è che cazzo questo è un senso poi ascolti il testo i miei immagini di te le mie immagini di te le mie immagini di te andate a guardare il testo amici miei i miei immagini di te dei cure dei cure è come la letteratura è come non so la filosofia la letteratura diciamo la letteratura i temi sono sempre gli stessi no? c'è chi li esprime meglio e c'è chi li esprime meno vera poi quando c'è c'è la musica c'è il testo c'è la dinamica la dinamica della musica c'è tutto no? tutto c'è ma oggi non c'è un cazzo non c'è dinamica i testi sono ti scopo fino a morire e ste stronzate no? o something like that qualcosa del genere no? che c'è sta roba? è musica è emozione è è vita non lo so vedete voi vedete voi ciao amici